Ciao, ho pensato di leggere questo libro insieme. Siamo in un libro. Tina! Sì, Reginald! Qualcuno ci sta guardando! Sì, qualcuno ci sta guardando! Chi ci sta guardando? Un mostro? No, è... Un bambino! Un bambino ci sta leggendo! Ci sta leggendo? E come? Legge le parole scritte nelle nuvolette. Siamo in un libro! Siamo in un libro? Troppo forte! Siamo in un libro, siamo in un libro, ci stanno leggendo, ci stanno leggendo. Oh, senti che idea! Ora faccio dire una parola al bambino. Fai dire una parola al bambino? Eh sì! Se il bambino legge a voce alta... Che bella idea! Pronti da buffa! Pronti? Banana! Hai sentito? Il bambino ha detto... Banana! Banana! Il bambino l'ha detto di nuovo... Banana! Ah, che buffa! Vuoi provare tu? Prima che il libro finisca? Finisce! Il libro finisce! Eh sì, i libri finiscono. Quanto finisce il libro? Ora guardo... A pagina 57! A pagina 57? Ma siamo già a pagina 46! Oh no! È ora a pagina 47! Questo libro va troppo veloce! Ho ancora tante parole, tante storie, tante banale! Io voglio solo essere letto. Ho un'idea! Bella idea! Ciao! Puoi leggerci ancora? Spero che funzioni! Anche io! Ciao!